La fondazione con piacere partecipa a queste cerimonie che non sono altro un modo per testimoniare la vicinanza della fondazione al mondo dello sport e in particolare a quello giovanile. Sono otto i pulmini Peugeot Boxer e Fiat Ducato omologati per il trasporto di un massimo di nove persone che questa mattina sono stati donati dalla fondazione CR Trieste nel corso di una breve cerimonia in piazza Sant'Antonio ad altre tante realtà cittadine che operano nel settore dello sport. Dare degli automezzi alle associazioni sportive che svolgono attività giovanile di propaganda è un modo per garantire ai nostri ragazzi di poter muoversi in completa sicurezza e per svolgere le trasferte e tutta l'attività per ciascuno degli sport afferenti all'attività che svolgono. Lo strumento della donazione già da tempo ha permesso alla fondazione di consegnare a enti e associazioni del territorio che operano in diversi settori oltre 110 automezzi dal 2000 ad oggi. Molto spesso le donazioni sono a favore di parrocchie o enti associativi che operano nel mondo del loro notariato ed è uno dei settori che noi privilegiamo in quest'ultimo periodo. L'incontro di oggi è stato anche l'occasione per ricordare che è in vigore una nuova modalità per beneficiare di tale donazione. Nel mese di maggio 2017 la fondazione CR Trieste ha pubblicato un bando per l'assegnazione di automezzi a enti pubblici, persone giuridiche e private senza scopo di lucro, cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, imprese sociali e cooperative sociali che in ragione delle attività istituzionali necessitano di strumenti adeguati al perseguimento dei propri fini statutari. Le domande da presentare esclusivamente secondo le indicazioni riportate nell'apposito regolamento pubblicato sul sito www.fondazionecrtrieste.it, sezione bandi, dovranno pervenire entro e non oltre alle ore 13 del 15 settembre 2017.